Una valorizzazione particolare dei nostri borghi attraverso la cultura, ripartoni in arte significa tutto questo, un borgo che si mobilita per valorizzare, promuovere le proprie colline, ma soprattutto questo borgo incantevole di Bellante attraverso la cultura. Quest'anno il Consiglio regionale ha voluto sottolineare l'impegno di questa comunità per la valorizzazione di ripartoni attraverso l'arte. Il Comune di Bellante è un pezzo della mia vita, io sono molto contento di quello che fanno a Ripartoni, siamo arrivati al diciottesimo anno, quindi la maggior età, grazie alla Proloquo e grazie a tutti quelli che rendono possibile questo evento culturale, Ripartoni è un luogo di cultura, spero che ci siano le condizioni, le possibilità nei prossimi anni che le istituzioni possano collaborare ancora di più, possano rafforzare questo valore di questo borgo e quindi si possa implementare e rendere permanente questo percorso culturale così importante.